Ciao bambini! Lo sapete che la Costituzione parla anche di voi? Sì, di voi bambini! Vi dedica ben quattro articoli. Per esempio, l'articolo 30 dice che mamma e papà hanno il dovere di mantenere e di istruire i propri figli e quindi di mandarli a scuola. L'articolo 34 della Costituzione invece garantisce per tutti i bambini una scuola gratuita e per le famiglie meno agiate ci sono anche degli aiuti economici. Un altro articolo importantissimo per i bambini è il 37. Stabilisce l'età minima che un ragazzo deve avere per cominciare a lavorare e quindi impedisce lo sfruttamento minorile. Ragazzi, è un argomento importantissimo! Vi aspettiamo ai prossimi video! Grazie a tutti! Grazie a tutti!